La valutazione viene effettuata non soltanto sui volumi di attività, quindi sul numero di parti ma anche e soprattutto per esempio sulla percentuale di tagli cesarei o di parto spontaneo dopo taglio cesareo che sono degli obiettivi dell'Agenas, quindi del Ministero della Salute ma viene valutata anche la qualità dei servizi, soprattutto nei confronti dei servizi di genere nel senso delle coccole per le donne e quindi il fatto di avere una biblioteca multilingua all'interno del reparto dell'Unità Operativa di Ostatrice e Ginecologia il pronto soccorso e allattamento, il nostro mare di latte dove il personale sia medico che infermieristico, ostetrico si possono dedicare anche da remoto a sostenere l'allattamento al seno delle giovani mamme una volta tornate a casa Altri servizi sono la stanza Cicogna di cui siamo molto orgogliosi che è una stanza in cui viene riprodotto un ambiente domestico dove le neomamme possono presentare il neonato e il nuovo arrivato ai fratellini o sorelline che erano a casa e che attendevano con ansia l'arrivo di questo cucciolino Percorsi specifici anche contro la violenza di genere in un momento in cui se ne parla tantissimo? Sì, abbiamo dei protocolli condivisi con il Tribunale, con la rete antiviolenza e con il pronto soccorso generale quindi c'è un percorso condiviso e abbiamo poi inaugurato di recente anche l'angolo di Marisa Sono dei pannelli informativi dedicati a Marisa Leo Sono dei pannelli multilingue in cui si informano le donne sui diritti che hanno, quindi sulle leggi vigenti d'Italia su cosa è vietato in Italia perché noi siamo una società multietnica e quindi magari delle migranti non sanno che le mutilazioni genitali femminili o i matrimoni combinati in Italia sono illegali e quindi possono rivolgersi alle forze dell'ordine Quanto è difficile affermare una medicina di genere? Tanto, è tanto difficile sia dal punto di vista operatori sanitari, anche se ormai si dice sempre che in sanità prevalgono le donne le scuole di medicina hanno più del 70% di iscritti di studentesse, così come le professioni sanitarie ma è anche difficile praticare una medicina di genere perché lo sappiamo, per esempio la cosa più semplice i farmaci vengono testati sui uomini e quindi ormai si è visto che alcuni psicofarmaci hanno delle risposte completamente differenti sulle donne